Io faccio anche, brevemente, faccio anche un ragionamento. Noi all'inizio, a Renzi, l'avevamo detto, metti un tecnico, metti un tecnico, non mettere... Però Errani mi dà un'esperienza molto positiva nella sua regione. Sì, un'esperienza dove nella sua regione è ancora un disastro. Io vado in Emilia-Romagna, io vado in Emilia-Romagna e ci vado ancora spesso, ci vado spesso, ci sono persone che stanno ancora aspettando, ci sono comuni che stanno ancora aspettando. Quest'ultima legge di stabilità, l'ultima mille proroghe, ci dovevano essere 50 milioni di euro per i terremotati dell'Emilia-Romagna e li hanno tolti i soldi.